Se il Papa mi donasse tutta Roma e mi dicesse la sanna chitama e mi dicesse la sanna chitama, io gli direbbe no, salviamo Roma Un'esperienza veramente straordinaria, uno spettacolo sulla canzone romana affrontata in una maniera molto interessante, con molta classe, in maniera molto raffinata Io in realtà vengo dal jazz, però lavoro con il maestro Piovani già da sei anni è stato un compito difficile perché questo è uno spettacolo che era nato comunque con Tosca quindi non è stata una vera e propria sostituzione ma lo spettacolo da tre voci si è trasformato a quattro voci ed ha preso sfumature sicuramente nuove ed interessanti è stato molto interessante, dicevo, affrontare la canzone romana da un punto di vista un pochino più legato alla tradizione quindi nel rispetto anche degli arrangiamenti quasi come venivano veramente fatti quindi senza batteria, con delle percussioni che anche noi ci direttiamo a suonare quella ed è uno spettacolo molto divertente, non solo da ascoltare perché c'è Massimo Vermuller che è veramente irresistibile ma è molto divertente secondo me anche da fare stare all'interno di uno spettacolo del genere da veramente molta energia, molta gioia, molta carica